Benvenuti, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento elettorale in vista delle imminenti elezioni amministrative e naturalmente ci riferiamo alle amministrative, alle comunali di Piedimonte-Matese. Si parla e già si scrive molto, ma sono davvero pochi i fatti concreti. Gianluigi Santillo potrebbe essere uno dei leader di un gruppo che si sta formando in questo momento, in queste ultime ore a Piedimonte in vista delle elezioni. Noi lo abbiamo sentito e a quale abbiamo chiesto quanto c'è di concreto in tutto questo. Sì, è vero che stiamo costituendo un gruppo di una ventina di amici che si vogliono preoccupare del nostro paese, del nostro territorio. Quindi Piedimonte in questa occasione che è a scadenza elettorale, noi ci stiamo preoccupando di formare un gruppo dirigente perché allo stato attuale non ce ne sono che possano prendere questa responsabilità di amministrare Piedimonte-Matese. Bene, lui è già stato sindaco di San Botito-Sannitico, ora ha deciso di candidarsi a Piedimonte-Matese. Perché avete deciso di scendere in campo? Gli abbiamo chiesto questo e lui sentite che cosa ci ha risposto. Abbiamo deciso di avviare un percorso di scesi in campo per una serie di ragioni. Tutto quello che bisogna fare è rendere Piedimonte un paese normale, una città normale, che non ha più le difficoltà che si sono succedute in questi anni, anche perché Piedimonte fondamentalmente sono 20 anni che un'amministrazione non riesce ad arrivare al termine. Ma non è una polemica la mia, ma soprattutto costa dare un dato di fatto. Perché ci vogliono? Occorrono persone nuove, persone che amano il proprio paese, persone che possono rilanciare non solo Piedimonte ma soprattutto l'intero territorio dopo burrascosi anni di buio, buio assoluto, che non è possibile andare avanti in questo modo. Non abbiamo più quella certezza di vivere un paese tranquillo, non abbiamo più quella certezza di vivere un paese pieno di servizi. Addirittura leggevo qualche giorno fa su qualche blog che anche il giudice di pace ci lascia. Quindi dopo l'Inbitup, dopo l'Inbitup, dopo tutta una serie di enti anche il giudice di pace ci lascia. Quindi voglio dire è degrato e noi con questo gruppo vogliamo animare e rendere questo paese abbastanza civile. Naturalmente non è ancora tutto chiaro, mancano ancora alcuni mesi, non si conosce ancora la data delle prossime elezioni e naturalmente non è ancora nemmeno tutto chiaro sulla posizione politica del gruppo che va via via formandosi. Insomma come si collocherà alla fine questa lista nel centro-destra, nel centro-sinistra o addirittura sarà una lista civica? Lui sentite che cosa ci ha detto in merito? Centro, perché il nostro gruppo è un gruppo di persone che alla politica guardano come obiettivo per migliorare il proprio paese, ma la posizione di centro è guidistante sia dal centro-sinistra che dal centro-destra per la semplice ragione che sono persone che non vogliono fare attività politica in futuro. Sono persone che vogliono amministrare il paese senza obiettivi secondi, senza obiettivi di candidature verso di qua o verso di là, ma esclusivamente la mattina alzarsi e vedere dove c'è il malfunzionamento di questo o quello e amministrare il proprio paese. Quindi noi non guardiamo la politica, io sì faccio politica da bambino, ma non guardiamo questo gruppo non guarda la politica, la guarda solo sotto l'aspetto per renderla funzionale al proprio paese, quindi al proprio end e soprattutto per dare delle risposte ai cittadini. Naturalmente siamo passati al programma elettorale per capirne di più, a quello che spinge poi questo gruppo a scendere in campo. Insomma, quali saranno i veri temi che loro affronteranno in caso di una vittoria elettorale per questa città? Prego la regia di mandare in onda l'ultima parte dell'intervista e sentiamo Gianluigi Santillo che cosa ha risposto. Alla base del programma che stiamo redigendo con un gruppo di studiosi, ma soprattutto con un gruppo di volontari e disoccupati che vivono quotidianamente il territorio di Piedimonte abbiamo messo come volano soprattutto il rilancio turistico e culturale storico di Piedimonte Madese. Quindi abbiamo degli obiettivi di migliorare una serie di servizi e far conoscere assolutamente quello che è di grande c'è a Piedimonte e soprattutto il rilancio di Bocca della Selva come volano turistico per l'intero territorio. Oggi in provincia di Caserta, ma o meglio in Campania c'è un solo impianto funzionante di quello che è il lago Taceno. Noi invece vogliamo assolutamente far riavviare Bocca della Selva e come già ho detto in qualche altra occasione preparare uno strumento urbanistico per il Matese. Il Matese che deve rilanciare l'intero territorio e quindi migliorare i servizi, rendere normale assolutamente la pubblica amministrazione a Piedimonte e il rilancio turistico storico e culturale che può portare beneficenze. Poi Piedimonte deve vivere di servizi. Piedimonte deve ritornare, riviorire con lo splendore degli anni 80-90 quando c'era una serie di servizi che offriva all'intero territorio. Quindi ecco il vero ruolo centrale del capoluogo di provincia, non una pasteggiata per questo o quello. Quindi noi vogliamo dare normalità e stabilità a quello che finora non c'è mai stato. Bene, siamo già oltre il tempo, il nostro incontro finisce qui. Grazie Gianluigi Santillo, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Sigla!